Favorito Honey World, reduce a 2 secondi posti, nel frattempo sono partiti. Cavalli della quarta corsa, prima notizia che parte male De Arisman, il debuttante che lascia lì una cosa come 150 metri. Si è partito abbastanza velocemente, davanti ci va Bridge Sacred Lear nei confronti di Hysteric Witch, che fa percorsie larghe. Poi in terza posizione troviamo Age of Ultron, in quarta la giubba marrone di Barani, che si lascia alle sue spalle Malvina. Poi l'altra giubba rossa è quella di Hair Grace, quella grigia e rosa invece di Duboisound. Precede Zeusina, poi tutto solo D'Arborea e anche Honey World, che rimane in penultima posizione, in terz'ultima posizione, con in coda a tutti De Arisman. Si procede così, con i cavalli che sono già sulla retta opposta, davanti ci è andata con una certa decisione Hysteric Witch. In seconda posizione si è assestata Bridge Secret Lear. In terza invece troviamo Age of Ultron, a precedere Malvina, Hair Grace, ancora Dubai Sound, poi Hello World, che in questo momento è in settima posizione. Poi alle loro spalle troviamo anche Barani, con il gruppo chiuso da tutto solo D'Arborea e appunto De Arisman. Siamo a tre quarti della piegata opposta, nulla che si è cambiato con... Anzi sì, con Bridge Secret Lear, che ha ripreso la leadership della competizione, perché nel frattempo Hysteric Witch ha allargato molto. Di dentro ci va allora Barani, che ha preso una bella posizione. In quarta troviamo anche Age of Ultron, a precedere Dubai Sound, poi Hair Grace, Honey World dietro a questi. Il favorito a precedere ancora Zeusina, poi De Arisman, che ha recuperato qualche posizione. Malvina è ancora tutto solo D'Arborea. Siamo addirittura ad arrivo, con Bridge Secret Lear, leggero vantaggio, nei confronti di Barani prova subito l'affondo esterno Age of Ultron, trascinandosi il compagno di scuderia Dubai Sound. All'esterno di tutti c'è anche il favorito Honey World, che si trascina anche Hair Grace, paletto dei 400, con Dubai Sound, il leggero vantaggio nei confronti di Honey World, che si getta all'inseguimento. All'interno c'è anche Age of Ultron, gli altri che non sono più della partita. E allora si scatena il match, Dubai Sound con Hello World, che prova ad andare di dentro, Age of Ultron che rimane sul passo, con Dubai Sound, che ha preso forse il tempo ad Honey World, che ci prova Honey World. Nel tratto conclusivo mette la testa davanti, anche se non stacca Honey World. Nel tratto conclusivo, in qualche modo, la porta a casa, battendo Dubai Sound e per il terzo Age of Ultron. Dovuto industriarsi un pochino di più del preventivato Dario Vargi, ma alla fine l'ha portata a casa in sella ad Honey World. Il training è quello di Alduino Botti, colori sono quelli della scuderia Milano. 7 al primo posto, 4 al secondo, 1 al terzo, 7-4-1. Prima vittoria in carriera per Honey World, un figlio di Ruler of the World, che aveva una quota intorno al 2,50. Quota rimasta stabile, come ho detto, ad un certo punto sembrava fritto, ci ha pensato Dario Vargi a mettere le cose a posto, secondo ovviamente. I dettami della punta, 7-4-1, l'ordine d'arrivo ufficioso della quarta. È tutto. Grazie. Grazie. Grazie.